L'influenza rischia di diventare avversaria più pericolosa del Monte Rossi Tuscia. La febbre non sta dando tregua a Lavellino che si è allenato in mattinata a porte chiuse. Maisto, Zalandria e Matera hanno dato forfei perché sono stati colpiti da sintomi influenzali. Rastelli è preoccupato ma spera di recuperare il giovane cernocampista e il difensore per la sfida di domenica nella quale mancherà sicuramente Matera, squalificato per una giornata. La coperta sulla linea mediana è già corta e l'eventuale forfei di Maisto potrebbe complicare ancora di più i piani del tecnico Bianco Verde che si ritroverebbe con gli uomini contati nella zona nevralgica del campo. In ripresa Auriletto, Gambale e Garetto che hanno svolto un lavoro differenziato. Non sono al top ma saranno convocati per l'ultima partita del giuro d'andata. Rastelli ha salutato il ritorno in gruppo di Russo e di Gaudio mentre Ceccarelli ha continuato a svolgere un allenamento specifico per smaltire l'affaticamento muscolare accusato alla vigilia della gara contro la Fidelisandria.